Quando mancano poco più di dieci giorni alla seconda fase del ritiro estivo per il Frosione Calcio, noi siamo venuti in anteprima a svelarvi quella che sarà la struttura che ospiterà i canarini. Siamo nel cuore dei fiuggi nell'Hotel Italia. Noi negli ultimi anni siamo sempre stati scelti da tante società sportive, di serie D, di promozione, e siamo stati anche un albergo che ha portato fortuna alle squadre che sono venute a fare il ritiro. Richieste particolari da parte del Frosione Calcio? Rispetto a tutte le società sportive per noi nulla di particolare. Noi abbiamo organizzato per loro il classico ritiro, loro utilizzeranno la nostra sala meeting per quando dovranno fare le loro conferenze, uno spazio per fare i massaggi, fisioterapia. Un angolo particolare della sala che comunque pure tante società ci chiedono perché devono mangiare tutti insieme, anche per fare squadra, è quello il motivo del ritiro, è il momento più importante. Per la cucina? Per la cucina ovviamente lì c'è un menù dedicato che comunque viene concordato con i medici e i fisioterapisti e normalmente è un menù molto dietetico per loro. Però appunto sono previste merende, spuntini, frutto al campo, diciamo vabbè, normalmente le squadre di calcio ovviamente siccome fanno allenamento mattina e pomeriggio e bruciano molto hanno bisogno di continui piccoli richiami di qualcosa da mangiare, qualcosa da bere e quant'altro. Tra coloro che si sono spesi per il ritorno del Frosinone Fiugi il sindaco Aglioscia Baccarini che ha seguito personalmente l'ITAR dall'inizio. Siamo stati ben lieti di accettare questa proposta e il fatto che una realtà così importante non soltanto nel mondo dello sport ma anche imprenditoriale seria, grazie al presidente Stirpe in questi ultimi anni abbia scelto Fiugi come meta appunto per il ritiro. Quindi tanto in senso di rinnovata amicizia tra la nostra cittadina termale e il capologo di provincia e imprenditori serie che operano nel nord Ciociaria. Quindi è stata veramente un'occasione importante che ho deciso di curare personalmente unitamente all'assessore allo sport e ci fa capire che probabilmente Fiugi sta tornando ad occupare quel posto quel segmento che conta anche a livello nazionale e non solo.